E' un progetto insieme all'ASL e un partenariato di cooperative con il Consorzio La Rada che diamo assistenza sanitaria, psicologica e legale agli immigrati presenti nei territori di Capaccio Pestano e l'obiettivo è quello di portare un maggior numero di beneficiari utenti nel nostro polo per dar loro un'assistenza sanitaria, un'assistenza psicologica. De Metra quindi vuole essere un progetto che nasce dalla collaborazione del pubblico, quindi la regione Campania che sostiene il progetto, l'ASL di Salerno che se ne è fatta promettrice alle organizzazioni di terzo settore tra cui il Consorzio La Rada, le cooperative luce della città è Prometeo 82 e la fitta rete di associazioni, organizzazioni sindacali, comunità dei migranti. Vuole essere un modo per provare nel nostro piccolo a tracciare un cambiamento ed avvicinare sempre di più i cittadini ai servizi. Serie di esigenze dei nostri cittadini immigrati che difficilmente riescono a trovare uno spazio dedicato e adeguatamente formato da professionisti del settore per prendersi cura non solo da un punto di vista sociale e quindi di tutela legale, ma anche da un punto di vista sanitario. Quindi la scommessa di questo progetto sta proprio nei poli ambulatoriali che vuole portare avanti.